Musica Riciclastica specializzata nel riciclaggio di materiali plastici, in particolar modo ovviamente di materie già utilizzate, quindi scarti da post consumo e soprattutto scarti industriali, da lavorazioni industriali. Nel suo sistema 3R che si sviluppa tutto il ciclo produttivo di Luciplast, cioè recupera, ricicla e riutilizza. Il prodotto finito di Luciplast quindi sono i compound di diverse tipologie e formulazioni. Il nostro cliente quindi al momento in cui si rivolge a Luciplast può tranquillamente chiedere qualsiasi assistenza perché Luciplast farà sicuramente il possibile, pur essendo materiale rigenerato, di soddisfare le sue esigenze. Musica I saci fondatori di Luciplast negli anni 70 avevano già intuito che l'avvento dell'applicazione di materiale plastico per le molteplici applicazioni, che quindi vanno dal packaging al confezionamento, all'accessorio per come pure qualsiasi cosa. Ovviamente basta pensare che dove ci giriamo nella nostra quotidianità vediamo che tutto ciò che ci circonda per il 90% è costituito di plastica. La loro grande idea quindi fu proprio quella di mettere su un'attività produttiva che si occupasse del recupero e del riciclo, quindi rigenerazione di queste materie plastiche. Successivamente a questo, a Luciplast, oltre che produrre questi granuli, quindi metterli nel mercato, una parte di questi granuli vennero utilizzati all'interno ed è qui che nacque la parte dedicata allo stampaggio di materie plastiche. Quindi abbiamo iniziato a produrre anche dei manufatti in plastica come le cassette in plastica che vanno per l'imballaggio, per l'ortofrutta, per i polli, per qualsiasi packaging di merce sia per il food che per altre situazioni. Musica La nostra azienda non ha tradizione, tutto nasce concentrandosi nell'innovazione che è stato il motore trainante della nostra attività. Non si tratta quindi di rievocare antiche tradizioni, ma di guardare il presente e soprattutto il domani. fare quindi attraverso tecnologie innovative, qualità, realtà e ovviamente futuro. Musica Il nostro prodotto viene scelto dal nostro cliente perché pur essendo un materiale riciclato, quindi ovviamente ha avuto già una vita precedente, comunque ha delle caratteristiche molto valide per i loro utilizzi. Quindi rispetto al materiale vergine ha un prezzo più basso con caratteristiche elevate comunque adatte per la loro produzione. Musica Non essendo un prodotto di largo consumo ci rivolgiamo direttamente alle aziende produttrici tramite o procacciatori d'affari o commerciali interni oppure semplicemente con il passaparola. Essendo ormai nel nostro caso un'azienda che sta sul mercato da anni, non abbiamo problemi per la distribuzione del nostro prodotto. I clienti ai quali ci rivolgiamo sono soprattutto quelli del settore dell'edilizia, dell'automotive e dell'imballaggio. Musica Il periodo contingente ci ha obbligato ad intraprendere immediatamente una forte politica di contenimento dei costi. Riteniamo che solamente così riduciamo il rischio di impresa e possiamo quindi rispettare i canoni di qualità e sedietà e soprattutto competitività che da sempre ci contraddistingue. Musica L'UCIplast è qui a Decomondo in via esclusivamente istituzionale per comunicare al mondo intero quello che da sempre è stata la sua missione, cioè il rispetto assoluto per l'ambiente. Musica 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 Musica